Oggi andremo a vedere il pH delle piante e come possiamo acidificare la nostra acqua con un prodotto che tutti abbiamo a casa. Infatti oggi acidificheremo l'acqua con l'aceto. Ciao a tutti, io sono Michele e vi do il benvenuto qua sul nostro canale di giardinaggio. Prima di tutto mi scuso per la voce, ma ho un forte mal di gola e quindi non riesco molto a parlare. Oggi, come dicevo, parliamo di pH. Il pH l'abbiamo già visto nel video sui terreni acidi, quindi quei terreni che vanno bene per piante come potrebbero essere i rododendri, le azalee e tante altre. Il pH è una scala che misura quando una sostanza è acida o basica. Va da 0 a 14. Più un valore è basso, quindi verso l'1, più è acido, come un limone o come l'aceto. Al centro, a 7, troviamo le sostanze neutre, come l'acqua pura. E più si sale, più la sostanza è basica o alcalina, come ad esempio il bicarbonato. Il pH è importante in tantissimi ambiti, dalla vita negli oceani all'agricoltura e anche per la nostra salute. Come vi dicevo, l'acqua pura è a pH 7, ma l'acqua pura in natura non si trova. Infatti, dobbiamo parlare di acqua naturale, che significa che in base a dove scorre l'acqua, al contatto con alcuni tipi di rocce o comunque al suo percorso che fa prima di arrivare a noi, cambia il suo pH. Ad esempio, l'anilide carbonica presente nell'aria si scioglie nell'acqua e la rende leggermente acida. Anche le rocce e i minerali con cui l'acqua entra in contatto possono rilasciare sostanze che ne modifichino il pH. E purtroppo, anche l'inquinamento causato dall'uomo può acidificare l'acqua, con conseguenze negative per l'ambiente. Ora che abbiamo ricapitolato un po' il pH che cos'è, andiamo a vedere come l'aceto può diventare un nostro alleato nell'acidificare l'acqua delle nostre piante. L'aceto è una soluzione diluita di acido acetico prodotto dalla fermentazione di alcol, come il vino, ed è un acido debole. Cosa significa acido debole? L'aceto, appunto, è un acido che quando viene sciolto in acqua rilascia degli ioni di idrogeno, che vengono scritti come H+. Questi ioni sono responsabili delle proprietà acide della soluzione. Un acido forte si dissocia completamente, il che significa che tutte le sue molecole rilasciano ioni di idrogeno in acqua, mentre l'aceto, essendo debole, non si dissocia completamente. Noi l'aceto solitamente lo usiamo per condire le insalate, per pulire, e oggi lo useremo per il nostro esperimento e per acidificare, appunto, l'acqua. Ovviamente ci sono dei fattori esterni, come dicevamo, il fatto che l'acqua non è pura, è naturale, che possono andare a modificare i risultati che avremo in questo esperimento. Un'altra cosa, quindi valuteremo innanzitutto il pH di partenza, un'altra cosa è la durezza dell'acqua. Che cos'è la durezza dell'acqua? Sostanzialmente è la quantità di sali minerali disciolti in un'acqua, in particolar modo calcio e magnesio. Questi sali possono influenzare il pH dell'acqua e anche la sua capacità di reagire con gli acidi, quindi di reagire con il nostro aceto. In generale, un'acqua più dura ha una maggior capacità tampone, quindi riesce a resistere di più alla variazione di pH, quindi il nostro aceto avrà un minore effetto. Un'altra variante può essere la concentrazione di acido acetico nell'aceto. Di solito gli aceti vengono venduti dal 5% al 6% di acidità, noi oggi utilizzeremo un aceto al 6%, teniamone conto perché quando voi andrete magari a preparare la vostra acqua per le vostre azalee, ad esempio, dovrete tener conto di che tipo di aceto state utilizzando. Per eseguire il nostro esperimento ci affideremo a un pH-metro come questo, è un pH-metro semiprofessionale che ci indicherà l'acidità di partenza dell'acqua, perché utilizzeremo acqua del rubinetto per fare il più verosimile possibile all'esperimento, come potrebbe capitare nelle nostre case, ma io vi consiglio di acquistare un pH-metro invece come questo, che è meno professionale, arriva a misurare fino a 5,5 di pH, quindi non arriva a pH troppo acidi, ma nel nostro caso va più che bene. Comunque di entrambi vi lascio il link in descrizione, così potete andare a vedere, confrontarli e fare la vostra scelta. Prima di tutto dobbiamo considerare che in ogni barattolo di acqua ho inserito esattamente 100 millilitri di acqua. Andiamo a vedere che pH hanno, che pH ha l'acqua in questo caso, è tutta uguale ovviamente. Potremmo considerarlo 7. Quindi, nonostante sia acqua del rubinetto, abbiamo un pH 7. Andiamo a vedere di versare l'aceto e vedere che pH ha l'aceto. Ok. In queste bottigliette sono andato a travasare l'acqua che ho preparato in litro, infatti in un litro d'acqua ho aggiunto nella prima bottiglietta un millilitro di aceto, nella seconda due, tre, quattro, nella terza, nella quinta ho aggiunto ad un litro d'acqua 5 millilitri di aceto. Come potete vedere dai risultati, al crescere della quantità di aceto ovviamente cala il pH, è una crescita, è un calo del pH logaritmico, considerando che con un millilitro noi otteniamo un pH di 5,2 sul litro d'acqua e con due millilitri invece il 4,9, per avere un pH intorno al 5 dovremo aggiungere circa 15 millilitri di aceto ogni 10 litri di acqua. Cosa significa? Più o meno 3 cucchiaini da caffè ogni 10 litri di acqua, se utilizziamo appunto aceto, come abbiamo detto, a pH 2,2, quindi al 6%, ovviamente se utilizziamo un 5% possiamo anche aumentare un po' la dose. Qui ho voluto inserire un reagente naturale che possiamo fare in casa molto semplicemente e che può far divertire anche i più piccolini della nostra famiglia, del tutto naturale, del tutto innocuo, ma riesce a colorare in modo diverso l'acqua a seconda dell'acidità. Se siete curiosi scrivetelo nei commenti. Come avete visto, su una piccola quantità di acqua abbiamo ottenuto dei risultati. Ovviamente adesso sta a voi moltiplicare questi risultati per la vostra acqua e fatemi sapere nei commenti se volete la ricetta di questo prodotto naturale che fa reagire l'acqua a seconda dell'acidità e ne cambia il colore. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao!